E ok 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 ci siamo bentornati in questo nuovo video bentornati su Afterside Crypto, io sono Emiliano e anche oggi torno al nostro consueto update legato ai mercati finanziari in particolar modo ai mercati delle criptovalute ma oggi andremo anche a vedere un po' quello che sta accadendo sui mercati della finanza tradizionale con un dollaro estremamente deboli in questa fase e un oro che schizza le stelle, una bomba in arrivo, ne parliamo tra pochissimo con dei dati molto interessanti ma come sempre prima di partire il mio invito è uno, quello di lasciare un bel mi piace qualora questi contenuti fossero di vostro interesse, di vostro gradimento a me aiuta tanto col canale e se siete nuovi ricordatevi anche di iscrivervi col clic sulla campanellina per rimanere sempre aggiornati insomma sapete quanto sia importante rimanere sul pezzo in questo mercato che si evolve alla velocità della luce vi invito anche a dare un'occhiata ai link che trovate qua sotto in descrizione insomma Bitget, Zumex, OKEx, un po' di tutto insomma con le promo dedicate alla community detto questo non perdiamo altro tempo e partiamo, partiamo da un micro strategy con un Michael Saylor on fire che comunica su Twitter appunto l'acquisto di ulteriori 1045 Bitcoin per un totale di circa 29 milioni di dollari a incremento della sua dotazione che ora arriva circa addirittura a 140.000 Bitcoin con un average price di 29.803 dollari quindi si sta avvicinando ancora sotto di circa 1500 dollari al suo prezzo meglio di acquisto l'average price del suo acquisto è stato di circa 28.000 dollari per Bitcoin sapete come reagisce il mercato di fronte ai tweet di Michael Saylor quindi dump di Bitcoin anche se contenuto ma comunque dump perché ogni volta che viene annunciato un acquisto di Michael Saylor scatta solo quello quindi è uno short facile facile in scalping molto molto veloce a parte gli scherzi insomma diventa sempre 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 più grosso non molla un centimetro volevo andarvi un attimo a parlare però di quello che sta accadendo un po' nell'est perché lo sapete come le tensioni internazionali tendono a comunque creare delle situazioni poco piacevoli anche sulle valute stiamo vedendo veramente tantissima volatilità sull'euro sul dollaro sullo yen su tutte veramente le valute di stato e è notizia di poco fa di circa 20 ore fa quella che il primo ministro della Malesia appunto ha parlato in una conferenza nel quale era presente anche la Cina eccetera eccetera di come non ci sono motivi per cui la Malesia deve continuare a dipendere dal dollaro si stanno andando a fare degli scambi per non utilizzare il dollaro e capite bene che tutto questo porta degli squilibri a livello globale squilibri che sono stati anche utilizzati da Trump perché sapete anche ieri tutto appunto il discorso del suo arresto o comunque delle sue ultime dichiarazioni dove appunto parla di come il dollaro sta andando a cresciare e non sarà più probabilmente il nuovo la nuova valuta globale insomma e questo chiaramente sarà anche un punto di attenzione per la prossima campagna elettorale di come l'America stia perdendo trazione con il dollaro sui mercati a favore appunto a favore dei mercati emergenti quindi bisogna stare estremamente cauti estremamente attenti anche perché un altro indicatore importante sul perché il dollaro sta dampando insomma il suo valore è anche legato ai prossimi dati del Fed Meeting dell'FOMC perché le probabilità di nessun incremento quindi di mantenere i tassi a questo livello per il prossimo Fed Meeting per circa 30 giorni il 3 maggio è circa del 60% quindi il mercato prezza una stabilizzazione dei tassi e quindi nessun aumento una pausa nell'incremento appunto al 60% con un 40% invece c'è l'incremento ulteriore di 0,25 punti base stiamo a vedere perché tutte queste condizioni capite messe insieme vanno a creare una forte pressione su quello che è il dollaro e anche sui mercati quindi sono tutte considerazioni sono tutti elementi da tenere bene bene a mente bene attenzionati nelle nostre analisi perché vanno a influire su quelli che sono i mercati tradizionali e soprattutto sui valori scarsi su le materie prime scarse come ad esempio oro oro che vedremo tra pochissimo ha superato abbondantemente i 2000 dollari e si avvicina veramente a delle resistenze importantissime anche per un all time high andiamo a vedere un attimino prima di passare i dati vi ricordo Zumex insomma partner del canale se vi interessa trovate il ref link qui sotto in descrizione Zumex un exchange che vi permette anche di fare trading no che si con i derivati appunto a base spagnola e appunto è sponsor del Villareal trovate poi tutto in descrizione comunque con lo sconto fee per sempre e le promo in corso quindi se vi interessa lo trovate qui sotto sempre nell'ambito di diversificazione dei provider insomma di trading andiamo a vedere i gainers delle 24 ore troviamo Icon che fa un più 14% Clayton che fa un più 9 Casper un più 8 GMX un più 8 Trust un più 7 Phantom un più 7 diciamo che è andato abbastanza bene le ultime 24 ore tra i losers niente di particolare da segnalare Musk un meno 3 Solar un meno 2 Dodge un meno 2 ma vedete sono principalmente i nomi comunque che hanno fatto ottimi numeri settimanali Teta ma niente di particolare questo perché voglio partire proprio dal grafico settimanale di oro oro che si trova veramente di fronte a una resistenza settimanale che è l'ultima dei 2069 dollari se andiamo anche a livello mensile capite bene che non c'è molto ragazzi cioè oro davvero molto molto bullish e questo perché accade proprio alla luce di queste tensioni internazionali che si stanno andando a configurare le quali rendono comunque le valute fiat estremamente deboli e estremamente volatili quindi in queste situazioni di incertezza ci si va a rifugiare su beni di questo tipo e anche Bitcoin stesso ha preso trazione infatti nel momento di difficoltà abbiamo comunque notato un Bitcoin a livello guardiamo in questo caso giornaliero in un recupero in un recupero importante con un prezzo che sta continuando a consolidare molto bene sulla zona di 28.300 dollari circa zona importante perché nell'action del prezzo ragazzi tutto questo movimento qua so che è noioso ma sono movimenti ottimi per andare a creare delle buone basi nel caso di break rialzista questa roba qua diventa un perfetto supporto per le nostre analisi per il momento l'analisi continua a essere estremamente simile a quella di ieri con medie mobili ben spiegate 12.26.50 esponenziale che seguono il prezzo ci danno una tendenza rialzista molto interessante queste zone di liquidità quindi di supporto stanno tenendo alla perfezione le avevamo segnalate come degli ottimi entry e così sono stati ovvio che dobbiamo stare attenti alla compressione che si sta avvenendo anche su questa zona qua di liquidità zona che per superare servirà parecchia aggressività rimango sempre dell'idea che se dovessimo andare a fare anche uno short squeeze video di 3-4 giorni fa di cui ho parlato di questa situazione potremmo accelerare anche tranquillamente fino ai 32-33 mila dollari insomma in questa zona qua per poi magari vedere il prezzo ritestare la resistenza però tutto sommato ripeto la formazione è molto interessante e segue un po' quella diciamo dell'oro nella sua movimento comunque aggressivo a rialzo anche tirum ne sta beneficiando ne abbiamo parlato oggi addirittura è andato a toccare il 1.945 dollari abbastanza vicino al nostro target che di cui vi parlavo anche ieri dei 2.000 dollari il movimento continua ad essere in atto sappiamo anche che c'è l'update di Shanghai che sicuramente influisce un po' sulla FOMO ma soprattutto influisce una dominance che sta andando a perdere la 12 e ha chiuso sotto la 12 ema esponenziale questo vuol dire che se andiamo a perdere questo supporto dei 47% di dominance potriamo tranquillamente approdare sui 46 bassi e quindi vedere ulteriore ridistribuzione all'interno dell'alcoin attenzione anche qui che le medie mobili iniziano a piegare ribassiste quindi ci danno un po' il segnale che questo skyrocket della dominance sta per terminare quindi potrebbe arrivare anche una ridistribuzione sulle alcoin ridistribuzione che ripeto ancora una volta accade principalmente sulle alcoin di alta capitalizzazione quindi per questo sto andando a osservare principalmente Ethereum ok proprio per le narrative che si stanno creando e per l'analisi insomma complessiva che sta avendo il suo prezzo che è molto interessante i mercati tradizionali invece rimangono flat nel senso che dopo questo bel recupero di S&P 500 andiamo a trovare il nostro top temporaneo sui 4.145 ma anche qua nulla ci vieta che questa potenzialmente sia una bull flag perché ci troviamo sopra lo 0.38 Fibonacci potremo tranquillamente andare ad attaccare i 4.200 resistenza prima di andare poi sui 4.330 circa il resto dei mercati appunto segue le alcoin seguono anche se non in maniera così aggressiva di fronte a un bitcoin che sta consolidando e sta ridistribuendo principalmente sulle alte capitalizzazioni detto questo io spero di avervi fatto un punto della situazione sul momento attuale soprattutto su anche i mercati riferiti al dollaro che sono una narrativa e sono soprattutto un tema da tenere estremamente a mente in questo momento storico ultima cosa che non vi ho fatto vedere prima il grafico appunto dell'indice del dollaro americano che vedete essere veramente in debolezza e sta confermando un trend decrescente con un lower high e soprattutto ci avvicina alla zona pericolosa dei cento dei cento di xy quindi occhio è tutta una conseguenza appunto della narrativa di cui ci siamo parlati prima detto ciò mi fermo davvero spero che questo contenuto sia stato di vostro interesse e di vostro gradimento se così è vi invito a lasciare un bel mi piace ed iscrivervi al canale con clic sulla campanellina prima di essere sempre aggiornati noi ci aggiorniamo prestissimo con un prossimo update ciao a tutti ragazzi